wow o se si mette se insegnano a parlare assai se fanno se fanno che io vado come un mandillo passaggi tu sarebbe palermo il palermo in serie b il palermo in serie b è vero e voi non c'è proprio una cosa stai godendo tutta l'italia calcistica l'italia che va contro gli strisciati contro chi infama chi ti fa una squadra piccola come palermo o come piacenza come so che questa è la giusta punizione giuventini di merda così godo godiamo tutti assieme ah che bella goduria questa sera oggi bellissima 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 ora diranno la scusa che c'erano gli infortunati che di bala non c'era la neve freddo gli squalificati no giuventini imparate a perdere dovete imparare a perdere così questa è la nostra goduria dopo il 6 giugno il 20 marzo 2016 si gode si gode tutti assieme ah che bella goduria chi ci va a fare male a pozzi no niente ci va a fare niente comunque ragazzi questo mio piccolo sfogo per tutti quelli che sono contro il palermo che sono palermitani ti fanno juventus e infamani i palermitani che ti fanno palermo poi mi dispiace per quelli che sono tifosi palermitani juventini che non sono andati mai contro la mia squadra ma questa sera godiamo noi godiamo noi forza bayern monaco forza palermo ah come godiamo dai ciao ragazzi vediamo il possesso palla 31 juventus 69 bike niente va grazie ragazzi e forza bayern monaco conan conan dio delle città e dell'immensità che io godo come fai e sto godendo troppo dai ciao ragazzi ah come godo 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 grazie a tutti